A piedi da Roma a Ortona è una vera e propria impresa quella del Cammino di San Tommaso, un itinerario praticato fin dal XIII secolo che unisce Piazza San Pietro in Vaticano alla Basilica di Ortona dove sono conservati i resti di Tommaso Apostolo o almeno quelli ritenuti autentici dalla Chiesa Cattolica. Due sportivi, Alex Tucci e Roberto Martini, hanno attraversato passo dopo passo il Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani, il Parco Naturale dei Monti Simbruini, il Parco Naturale Sirente Velino, Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga e il Parco Nazionale della Maiella facendo tappa agli eremi e alle chiese lungo il Cammino. Un po' stanchini ma penso che sia normale. Adesso mangiamo, ci riposiamo e ripartiamo. Dai, forza! Circa 300 chilometri percorsi in appena due giorni e mezzo attraversando l'Italia orizzontalmente. Lì in fondo c'è il mare e lì da qualche parte c'è Ortona e questa è una figata. Finalmente, finalmente si vede il mare. Tommaso è stato uno dei dodici apostoli di Gesù ed è uno dei responsabili dell'evangelizzazione al di fuori dei confini dell'impero romano. Si recoprì ma in Siria, poi in Cina e in India dove morì assassinato. Secondo la versione ufficiale, i resti dell'apostolo furono spostati a Chios, in Grecia, a seguito di una rivolta anticristiana. Nel 1258 il navigatore ortonese Leone Acciaiuoli trafugò le ossa e le portò in Abruzzo, dove sono conservate, tutt'oggi, in un sarcofago d'oro massiccio. Ha resistito al saccheggio saraceno del 1566 e alla devastazione della Seconda Guerra Mondiale nel 43. Tommaso è anche quello del proverbiale «Se non vedo, non credo», poiché aveva dubitato della risurrezione di Gesù. L'incredulità dell'apostolo così è divenuta simbolo di razionalità e autodeterminazione contro la fede cieca, tale da poter eleggere il santo patrono della cultura odierna, contrassegnata dal secolarismo e dal suo relativismo. Negli anni 2000 però il «Se non vedo, non credo» è lo slogan adottato anche da complottisti e negazionisti vari.